La prima dei nostri ospiti politici, Paola De Micheli del PD, bentornata a Radio Anch'io. Buongiorno, buongiorno a tutti. Se dovessimo però arrivarci, onorevole De Micheli, se il governo dovesse cadere, qual è lo scenario successivo che immagina il PD? Quindi pensate a un governo di scopo con l'appoggio di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle o addirittura di transfughi del PDL? A me non risulta che esistano parlamentari del Movimento 5 Stelle in numero sufficiente, desiderosi di uscire dal Movimento 5 Stelle in numero sufficiente da poter garantire il sostegno del Governo e del Senato. Non risulta a me, non risulta ai colleghi.